Si terrà regolarmente l'edizione 2021 del Sud Motor Expo, manifestazione che avrà luogo a Calitri il 10, l'11 ed il 12 settembre. Sud Motor Expo è una manifestazione dedicata al mondo dei motori a 360 gradi. L'esposizione è suddivisa in tre sezioni, passato, presente e futuro, che rappresentano una panoramica dettagliata di un secolo di mobilità. L'iniziativa sarà ospitata all'interno del centro fieristico. Un'età importante che abbiamo deciso, che è importante, che abbiamo spostato l'evento nell'altra Irpine. Ci teniamo tantissimo a far capire la bellezza che abbiamo nell'Irpine, sia per le degustazioni, anche per il turismo, e anche per una sfida per questo copio. Quando abbiamo deciso di spostare l'evento, non soltanto una telefonata che è stata fatta dal caro amico Gambacorta, che ha telefonato il vice sindaco e l'amministrazione di Calitri, non si conto, ha sposato in pieno questo progetto. L'abbiamo sposato subito perché ci è stato presentato in maniera molto chiara e ci saremmo resi conto subito che era un evento da non farsi sfuggire. Al di là dell'evento stesso, servirà anche a far conoscere molto i territori e le nostre eccellenze, che sono tante nella nostra zona. Il contatto con le istituzioni pubbliche e con tutti gli enti privati per cercare di portare risorse economiche anche per la realizzazione del progetto è dovuto all'ente pubblico ACI, Automobile Club Italia e Avellino, che rappresenta Calitri e Ariano.